Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube, un salutone da me e dal nostro amico Walter che vigila su di noi Oggi è lunedì, lunedì significa solo una cosa, analisi gameplay che ci andiamo a pescare da quelle che sono state le regional finals di questo fine settimana In particolare su quella che è stata la piattaforma Xbox, match disputato tra All Elite, faccia notissima del competitive FIFA degli ultimi anni e X Musty Ragazzo tedesco che invece per la prima volta si va ad affacciare ad un evento di questa portata Ma che ha stupito, ha stupito tutti e in particolar modo vado a farvi vedere questo game perché ci sono un sacco di meccaniche che come potete vedere Saranno rottissime anche ad alti livelli, meccaniche che poi ho già portato, tutorial sul canale Quindi ci tenevo a farvi vedere questo match perché in qualche modo è un po' il prof che viene battuto dallo studente Spoiler però è bene andare a vedere come Quindi senza perderci ulteriormente in chiacchiere passiamo subitissimo sulla schermata in game dove ci attendono subito le prime battute del game Con la nostra lavagnetta tattica sulla sinistra pronta a intervenire qualora ce ne sia appunto bisogno Subito il buono Lelito che attacca da sinistra verso destra dei vostri teleschermi A girare palla da una fascia all'altra per cercare di sfruttare questo kickoff con pazienza Cercando di muovere il pallone andando ad aprire quelli che sono spazi nella difesa avversaria Difesa avversaria che mi sembra schierata con un eclettico 5-3-2 Non vorrei dire una sciocchezza ma mi era sembrato vedere... no non è vero 4 in difesa si era schiacciato vi era probabilmente un'istruzione che lo faceva rimanere particolarmente basso Quindi sventala grandissima questo kickoff il buon Musti che poi cerca di ripartire con molta calma Vedete come Cristiano Ronaldo venga a prendere palla altissimo nel cerchio di centrocampo Palla manovrata adesso sulla tre quarti del buon Lelito Vediamo addirittura schierato un Dembele che immagino sia il freeze però un po' strana come scelta Classico ball roll più finta di tiro per andarsi a liberare Però nel secondo caso purtroppo non gli viene registrata la finta Palla che si tramuta in un passaggio e scappa via dai piedi del portatore di palla del buon Musti Ollelito a caccia dell'azione vincente con questa cavalcata di Mendy che viene però sgambettato E quindi fallo più o meno sulla linea di centrocampo Palla girata nella zona di Renatino che vedete come è predominante In quelle che sono la stragrande maggioranza delle squadre Adesso ha anche perso l'andata d'Europa League quindi è anche tornato a prezzi umani Palla dentro al limite dell'aria verso Ronaldo che saggiamente decide di tornare indietro Intanto qui vediamo come Ollelito si presenti con R9 più CR7 Totti E vediamo come il buon R9 decida di trollare questa azione costruita alla perfezione Dal buon Ollelito che ci terrei un attimino a farvi rivedere Perché è la classica abbiamo l'azione a scaletta con il nostro Neymar in possesso palla Ronaldo da seconda punta in attacco a due che viene a prendersi palla al limite dell'aria Ronaldo che si viene a posizionare in questa posizione di boa A galleggiare tra quelle che sono i suoi difensori centrali pronto ad aggredire Ollelito sa che nel momento in cui si andrà a girare con Cristiano Ronaldo Ronaldo avrà occupato questa zona quindi è la più facile questa delle azioni Con Ronaldo che viene infatti servito alla perfezione lascia partire il mancino con 5 di vede debole Ma la palla si stampa sul palo Io non so se questo sia R9 94 o R9 96 ma è un qualcosa di abbastanza criminale Che è una carta da minimo 5 milioni e dispari Sbagli un gol del genere ovviamente prezzi Xbox Quindi Ollelito vicinissimo al gol con un'azione tipica Senza inventarsi nulla Come potete vedere il buon Musti utilizza Theo Hernandez Da difensore centrale e questo ci ricollega un po' anche al video che è uscito ieri Su quelli che sono i migliori terzini che possono essere sfruttati in altre posizioni In particolare nella versione di difensore centrale Qui il buon Musti ancora ad impostare l'azione con molta calma Ollelito vedete come è composto Come è in attesa dell'avversario Fintanto che rimane lì Insomma non muove i suoi giocatori per evitare di essere preso in imbucata E alla fine riesce a recuperare palla rimanendo molto molto basso Qui contropiedino col buon Cristiano Toti Che cerca ampiezza Palla nella zona di Neymar Arretrata verso Renatino Sanchez Gullit si butta dentro alla perfezione Aveva visto il movimento di Cristiano Toti Che però viene saggiamente coperto da Viera Qui un passaggio criminale fatto con Gullit Che poi fortunatamente recupera il pallone Palla dentro nella zona di R9 Palla dentro una mozzarella Qui ancora una volta ci tengo a farvi vedere la giocata di Ollelito Perché sono tutte giocate di un giocatore che sa il gioco come funziona Difatti qui con R9 Legge questa situazione alla perfezione Perché lui ha questo difensore dinanzi a sé Un passaggio rasoterra in questa zona verso Cristiano Ronaldo Sarebbe stato sua facile preda Quindi decide di fare doppio tap Quindi doppio X o doppio A Seconda della console Per fare il passaggio a mezza altezza Per prendere anche poi un boost In quella che è la conclusione al volo Ma vedete questo Van der Sar come è posizionato sul primo palo Quindi riesce a intervenire Anche se il tiro di Cristiano Ronaldo Non è poi così irresistibile Sotto questo punto di vista Palla scaricata fuori dal buon Renatino Sanchez Walker classica suolata In attesa dell'arrivo dei compagni Renatino fa girare il pallone Zona di Gullit Ancora una volta dentro per il buon Cristiano Totti Che compostamente gira il pallone Poi Neymar viene chiuso da Ferlamendi Peccato perché ancora una volta il buon Ollito Avete visto come con la classica azione dall'esterno verso l'interno È riuscito ad aprire benissimo il campo Qui in qualche modo rispondo anche a un po' di domande Che spesso mi fate Matte, Riberoski Spesso e volentieri Dopo la patch faccio un sacco di fatica Portaci un tutorial su come attaccare Portaci un tutorial su come difendere E io alla fine vi dico Beh sarebbe prendervi in giro Fare un altro tutorial sull'attacco Perché semplicemente Si è cambiato il gioco Ma alla fine le meccaniche e i pattern sono quelli Magari quello che dobbiamo andare a fare È avere un pochino più di pazienza Cercare meno di andare a isolarci nell'1v1 Cercare magari un doppio passo Un elastico come era inizio game ovviamente Magari cercare più di andare a fare Quell'ultimo passaggio smarcante Con tanta pazienza Ma non è che ci dobbiamo inventare Chissà granché Così come a difendere In realtà dovrebbe essere diventato Paradossalmente più facile Perché magari una fase un pochino più passiva Vi premia Perché rimanendo la squadra schiacciata Visto che l'avversario in qualche modo Ha perso tutte quelle che sono skill Eccetera eccetera Che possono andare a infastidire In qualche modo vi garantisce maggiore copertura Qui intanto Musti Vedete come con la pazienza di cui vi parlavo Cerca l'imbucata nella zona di Pelema Il buon Walker fa assolutamente buona guardia Rashford si poggia nella zona di Tavernello Per cercare di sfruttare Il classico 1-2 Per poter Per poter salire Ma purtroppo viene chiuso E allora è Musti che può fare In questo caso Un'azione di contropiede Manovrato all'interno del metà campo Dello svedese Con Viera che cede palla Nella zona di Dembélé Ancora Pele Guardate con quanti tocchi Cerca l'imbucata nella zona centrale Che al momento sembra Non arrivare in nessun modo Guardate come Come il buono Hulet Vada Vada a coprire tutti gli spazi Senza lasciare minima chance Al tedesco di trovare Di trovare il buco vincente Però questa è la giocata E state bene attenti a questa giocata Amici miei Perché sarà esattamente Il leitmotiv di tutta quanto Il match E anche il match di ritorno Che non vedremo Qui la palla vi è andata dentro Nella zona di Pelé Ho l'elito qui Ha un attimo di indecisione Nell'andare a switchare Nella zona di Varan Lievemente in ritardo Tunnel direzionale Da parte di Pelé Dopo Che viene mandato al bar Il buon Il buon Il buon Varan Si viene a creare Una voragine Qui in mezzo Tunnel direzionale Che vi ho portato sul canale In obliquo Con Pelé Che prende un boost Di velocità Pazzesco E sul primo palo In sacca La rete del vantaggio Al primo tiro buono Il buon Musti L'ha insaccata Ad esperienza Paradossalmente È da giocatore Che dimostra Di aver masterato Totalmente Quelle che sono Le dinamiche di quest'anno Perché avete visto Come l'elito Da giocatore più old school Abbia cercato Di andare a trovare L'azione manovrata Ragionata Lui è andato A sfruttare Questa meccanica Che ultimamente È veramente rotta Poi ovviamente Non vi sto a dire Che con Pelé Con Cristiano Totti Insomma Riesce Molto molto meglio Subito Al primo tiro Trova il bersaglio grosso E si porta Quindi una rete sopra Bravo Musti E o l'elito Sicuramente Poteva fare Anche un pelino meglio In fase difensiva Questo va detto Ovviamente Da campione Sa che la partita È lunghissima Siamo solamente Ai primi 45 minuti Di un B.O.2 Qui subito Prova il kickoff E onestamente Qua Avrei fatto di meglio E vi spiego perché Qui mi passi Ok Guardate qua Col tacco tacco Ha preso benissimo campo In questo frangente Qui lui è una figura avanti Tu qua hai Cristiano Totti Piuttosto che fare Quella ruleta lì Tu qua mi scagli Un tiro a incrociare Di sinistro Che il sinistro di Ronaldo Quest'anno È comunque molto molto valido E tu sta porta a terra Me la devi buttare Io non vi dico Che avrebbe segnato 100% Ma un 75% Di probabilità Di rete Qui con Cristiano Totti Soprattutto dopo il tacco Tacco ce lo metto Quindi Qui probabilmente Si è fatto prendere Un attimino dal nervoso Dall'ansia Di dover necessariamente Cambeccare Questa situazione Di svantaggio Infatti Mastica un po' amaro Ma Sa che sicuramente Si poteva fare meglio E al momento In questo primo tempo Ha sicuramente Fatto vedere Quello di cui Di cui è capace Ripresa Che parte Con il tedesco In possesso palla Olelito però È bravissimo A rovesciare Questa situazione Di kickoff Vedete Con tanta calma E tanta compostezza Ragazzi Nonostante abbia Appena fallito Un'occasione clamorosa E nonostante Sia in svantaggio In un match Tanto importante Mai accelerare Mai Frenetico Questo quindi Qualche modo Si ricollega pure A varie domande Che mi fate Per quanto riguarda L'AVL Che andate sotto Non riuscite a recuperare Game Perché inconsciamente Ragazzi Senza rendervene conto Magari tirate più dritto Andate più in verticale Senza cercare la giocata Ragionata Eccetera Perché fate prendere Dalla frenesia Do bisogna sempre Imparare da questi campioni Invece che la frenesia Non è mai niente di buono E a proposito Di meccaniche masterate Ragazzi Si parlava tanto Di bridge Si parlava tanto Di doppio passo E di elastico Ma ditemi voi Come si può difendere Una cosa di questo tipo Ragazzi Perché la palla Vi è andata a Rashford Rashford Neanche il tempo Di controllare Il pallone O l'elito Tra l'altro Ha già selezionato Mendy Pronto per andarlo A chiudere Va a fare subito Il tunnel direzionale In obliquo E guardate qui Lo salta di netto Mendy Paralizzato Rete del 2 a 0 Di Musti Fotocopia Per quanto riguarda La rete dell'1 a 0 E questo ancora una volta A dimostrare il fatto Che veramente A questo livello Le partite Vengono decise Da dettagli Da quella skill Fatta al momento giusto Da quella meccanica Imparata alla perfezione Anche se Per quello che avevamo visto Fino ad ora Il buono l'elito Meritava sicuramente Qualcosina Qualcosina in più In tutto questo Siamo arrivati Al 52esimo minuto Quindi da poco Iniziata la ripresa Questo è un doppio vantaggio Che sicuramente pesa In quella che L'economia del game Ve lo posso dire Una volta che vi ritrovate 2 a 0 sopra Sebbene sia un best of 2 In qualche modo Iniziate a respirare Iniziate a trovare Anche un po' più di coraggio Nelle giocate Rischiate quella skill Rischiate quel passaggio Rischiate quella conclusione Perché tanto Non avete Quella Quella paura Di magari finire sotto Non avete quella paura Di Del risultato in bilico Ma Sapete che da quella giocata Che magari Azzardate Ne potete andare Solo che a guadagnare Qui Cristiano Ronaldo Rimane un attimino Impantanato In questa In questa situazione Tra Traviera I difensori Del buon Musti Che ancora una volta Qui col tunnel direzionale Prende campo E Ragazzi Di che cosa Stiamo parlando qui Di che cosa Stiamo parlando qui Ancora una volta Ancora una volta Azione Fotocopia Rispetto a quelle Che abbiamo visto In precedenza Palla ceduta Nella zona di Cristiano Ronaldo 1-2 Con Pelé Ancora una volta Baran Che esce perfettamente A chiudere Ronaldo Che Ronaldo Attualmente è di spalle Boom Tunnel direzionale Manco il tempo Di girarsi Va via Tira una castagna Di sinistro Poi la palla Rimbalza perfettamente Sul pettone di Pelé Che la domestica E fa il più facile Detapine per la rete Del 3-0 Ma Non ci siamo Attualmente Persi Nulla di granché Se non Quelle che sono Giocate meccaniche Da parte del buon Del buon Musti Che Insomma Dimostra Di Di aver capito Come bucare Questa Questa fase difensiva Ma Non è che abbia fatto vedere Chissà cosa Al momento Io purtroppo Non sono un grossissimo fan Di queste Di queste situazioni Sono molto più Favorevole Allo stile di gioco Di Ollelito In questo momento Voi Giustamente Magari Non conoscete Tutti quanti Il mio stile di gioco Grazie a youtube Siete arrivati A conoscermi Quest'anno Però insomma Chi magari mi segue Da un pelino più di tempo Sa quanto Io ho sempre disdegnato Skill eccetera eccetera Infatti Quest'anno Che ho iniziato a usarlo E ho fatto tutorial Un po' Lo prendo a ridere Perché dico Che mai avrei pensato Di arrivare a fare questo Quindi è un gioco Che purtroppo A noi Impone Il doverci Adeguare Ecco quindi Ogni anno Se c'è quella meccanica Che fondamentalmente Funziona Levemente di più Rispetto alle altre E' chiaro che Bisogna capire Come usarla Per non rimanere Indietro Cosa che ad esempio Feci su FIFA 19 Dove mi rifiutavo Di fare i cross Quelli col tornado Buggati Eccetera eccetera Motivo per il quale Persi l'ultima qualifica Della stagione Un capitolo amaro All'ultimo match Per la qualifica Contro hashtag Gary Mi fece 5 gol Col tornado cross E persi 5 a 4 Io avevo l'ala Come terzino Che non ne prendeva uno Qui intanto Una bella azione Di Musti Anche se Pelé Era finito in fuorigioco Ma che sicuramente Avrebbe meritato Il gol E questa era Probabilmente La prima azione pulita E non sporca Da parte del Del buon Musti Al momento Però Vi ripeto Qui Il livello è alto Si stanno giocando Dei soldi Dei punti Il prestigio eccetera Come in guerra E' giusto utilizzare Tutte le armi A nostra disposizione No Ecco in questo senso Poi ci sta Io vi porto Queste analisi gameplay Per farvi vedere Come Determinate meccaniche Insomma Funzionino Anche ad alto livello Quando vi porto Il tutorial Insomma Non sono cose Che diciamo Funzionano solo In Weekend League O contro O contro L'amico Della porta Accanto Ecco Sono cose Che funzionano A 360 gradi Intanto 75esimo 15 minuti Alla fine Del match Sempre Musti In controllo Del game Ancora una volta Il classico Tunnel direzionale E qua Palo Con questa conclusione Sul primo Da parte di Cristiano Ronaldo Che insomma Ci aveva regalato L'ennesima Giocata Fotocopia Ancora una volta Tunnel Per prendere un po' Di campo Palla dentro Nella zona Di Adama Qui ancora Finta Duplici Autoblock Sicuramente Qui Musti In queste ultime due azioni Avrebbe meritato Qualcosina di più Però Probabilmente La dea bendata Dà E la dea bendata Toglie Quindi Per quanto riguarda Il gol di prima Ha stato molto Molto fortunato In queste due ultime Giocate Invece Si è un po' Eh Ha un po' Restituito il favore Ecco ad Ollelito La fortuna Ottantesimo Con Ollelito Che cerca Alla disperata Di Portarsi In zona Pericolosa Perché dopo Le belle giocate Del primo tempo Nel secondo tempo Complici appunto Questo 1-2 Devastante Da parte di Musti Abbiamo visto Veramente Veramente poco Da parte Dello svedese Non è da lui Perché io ci ho fatto Anche delle partite Quest'anno Di allenamento Vi posso dire Che è uno Che ti mette sotto Ti toglie Veramente il respiro E insomma Ti martella Per 90 minuti E vederlo Insomma Così Inerme E inerte In questo Secondo tempo Fa capire Che comunque Le partite Siano piene Di ups and down Quindi Sali Scendi Emotivi Che un po' Condizionano Anche il Il gameplay Qui c'era Un'altra volta Spazio Secondo me Per una giocata Tipo tunnel O bridge Stavolta Non viene azzardata Da parte Di Musti 87esimo Con Son Ne ho entrato Fresco Pronto a far Valere la sua Energia Serve in fascia Il buon Cristiano Ronaldo Che si porta A spasso Il buon Il buon Walker Come se Fosse Non lo so Il cagnolino Palla poi Data dentro Verso il buon R9 Tacco Tacco E qui Van der Sar Non può nulla O Lelito Ritorna In partita Con questo bel goal Devo dire la verità Bel bel goal Da parte Da parte sua Tacco Tacco Per evitare L'autoblock Andare a migliorare Quello che era L'angolo di tiro Questa è una dinamica Eccezionale Tiro Poi a giro E il portiere Può solo guardare Il pallone Insaccarsi Siamo arrivati quindi Al novantesimo Vediamo se Musti saprà sfruttare Questo Questo kickoff No Decide saggiamente Di far Terminare Il match Non è vero Perché l'arbitro Decide di non fischiare Nonostante la palla Fosse nel cerchio Di centrocampo Poi Recuperata Da parte del buon Allelito Allora si Che finisce Finisce il match Match dunque Che abbiamo visto Termina Sul risultato Di 3 a 1 Per allelito Per Musti Ma quello che insomma A noi interessava Era andare effettivamente A vedere L'utilizzo Di questo Benedetto Tunnel direzionale Ragazzi E quindi Come vi dicevo Anche nel tutorial Si dimostra Al momento La skill Migliore In assoluto La migliore Che insomma C'è Per poter andare A sgangherare Difese avversarie Quindi Tanta tanta roba Questa qui Del tunnel direzionale Ovviamente Fa un po' special Comunque vedere Sempre la stessa cosa Fatta per arrivare In porta Però Bravo Musti Sotto questo Sotto questo Punto di vista Ragazzi Per questo video analisi Anche per oggi È tutto Io come al solito Vi ringrazio per la visione Vi invito a lasciare Un like E un commento Vi ricordo che domani Sulla piattaforma Viola Troverete il commento ufficiale Del mondiale per club In italiano Do abbiamo 4 team italiani Perché sono il reporter Ufficiale per l'Italia Quindi Vi aspetto lì E niente raga Per oggi vi saluto Vi auguro una buona giornata Ciao ciao